Appalti pubblici urbanistica al centro dei provvedimenti adottati dalla giunta della regione toscana nel corso della sua ultima seduta. Per quanto riguarda gli appalti pubblici è stata presentata la nuova legge regionale che ha come obiettivo quello di valorizzare lavoro e aziende. Un provvedimento che riporta al centro il tema del lavoro e che introduce tra le altre cose una verifica di congruità fra numero dei lavoratori dichiarati, importo dell'opera e versamenti contributivi per le aziende che partecipano a legare nella pubblica amministrazione per evitare il lavoro nero. Introduciamo e rafforziamo la clausola sociale nel passaggio dell'assegnazione dei servizi in caso di gara per la tutela dei lavoratori, passaggio da un'impresa a un'altra quando a vincere fosse un'altra impresa. Cerchiamo insomma di rendere tutta quanta la legislazione degli appalti regionali e dei servizi più trasparente e allo stesso tempo più rigorosa nella tutela del lavoro per quello che sono le competenze che possiamo esercitare in questo settore. Sul fronte dell'urbanistica la regione toscana con oltre un milione di euro sosterrà anche nel 2019 la pianificazione strutturale intercomunale ovvero la stesura di un unico piano strutturale da parte di più comuni della stessa area alla base della legge regionale 65 del 2014. Noi abbiamo approvato una delibera attraverso la quale mettiamo a disposizione anche nel 2019 altre risorse per poter finanziare i piani strutturali intercomunali. 316 mila euro saranno destinati a finanziare i comuni che erano rimasti in gradatoria del bando del 2018. Gli altri 800 e rotti mila euro invece saranno messi a bando per poter dare l'opportunità anche nel 2019 di poter accedere a questi finanziamenti. A poco più di quattro anni dall'entrata in vigore della legge sono 199 i comuni interessati dai nuovi piani strutturali comunali e intercomunali.